Musica E' appena finita la terza giornata di campionato abbiamo fatto una trasferta molto complicata a NOL e abbiamo vinto 2-1 ho fatto un altro gol e sono felice per la 3 Forza Atletico, speriamo bene è finita la terza giornata di campionato è andata abbiamo vinto a NOL che era una trasferta molto difficile sapevamo che sarebbe stata così e ce l'abbiamo messa tutta Forza Atletico Grazie a tutti Oh, go, 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 go Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.